I primi profughi sono già arrivati a Firenze, donne e bambini, una trentina in tutto, ma i numeri sono destinati a crescere velocemente. La Toscana si prepara ad accogliere i rifugiati in arrivo dall'Ucraina. Un primo piano di emergenza è stato preparato in un vertice che si è svolto in prefettura a Firenze. Una ricognizione delle strutture e delle risorse disponibili, insieme ai rappresentanti delle istituzioni, della diocesi e della ASL. Obiettivo? Un'accoglienza organizzata, dice il prefetto Valerio Valenti. Nei tempi più rapidi possibile è un'accoglienza dignitosa alle donne con i bambini che arrivano in questa terra. Abbiamo apprestato un primo piano di intervento nella considerazione che il tempo di permanenza speriamo che sia il più breve possibile. Una riunione che arriva dopo le decisioni prese dal governo di prorogare lo stato di emergenza fino al 31 dicembre per dare soccorso alla popolazione ucraina e distanziare 10 milioni per gli interventi più urgenti. Difficile prevedere quante persone arriveranno e in quali tempi, spiega il presidente dell'Anci Toscana Matteo Biffoni. La rete del Consolato Ucraino ha messo a disposizione alcuni appartamenti, poi verranno utilizzati gli alberghi sanitari che ora si svuotano, dice il presidente della regione Gianni, successivamente i centri di accoglienza. Ma per attivare queste strutture si attende il decreto del presidente del Consiglio dei Ministri che fisserà nei dettagli le modalità per gestire la filiera dell'accoglienza. Il sindaco Nardella riferisce di aver parlato con i vertici del colosso degli affitti turistici pronti a mettere a disposizione degli appartamenti a loro spese, ma bisogna capire per quanto tempo. Oggi anche a Pisan Prefettura si svolgerà una riunione per preparare l'accoglienza dei profughi. Lo ha annunciato il sindaco Michele Conti che ha anche convocato per domani tutte le associazioni di volontariato per costituire un coordinamento per gli aiuti.